House, brutte notizie. Ma guardati, avrei preferito una camera insudata per un annuncio di brutta novella. Jack ha avuto un altro attacco, ma il sangue era pulito, privo di droga. Insomma, ha avuto un attacco proprio quando lo abbiamo infilato in una sauna. Non parlerei di coincidenza, continua ad averne sia che lo infiliamo in sauna o meno. Oh santo cielo, quel bastone è sbagliato. Ce l'ho da anni. No, così si rovina la spalla. Ecco che cosa le serve. Lui è medico, eh? E' sempre senza infezioni? Non per molto ancora. Ho l'impressione che sia da ricercare altrove la causa degli attacchi. Fategli una risonanza alla testa. Già fatta. Allora era allora, adesso è adesso, le cose cambiano, rifatela. Dov'è camera? Ciao. 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 Grazie a tutti